Ci hai fatto conoscere tante famiglie tutte diverse, da quelle più ricche a quelle più povere, dalle più corrotte alle più prestigiosi. Bowery, Lewis, Riordan, Cooper, Spalding, Shane, Santos. Ogni famiglia ha una storia, ogni famiglia ha un passato, ogni famiglia un futuro che noi vogliamo conoscere arrivando all'ultima puntata. Grazie a tutti.